campioni del mondo ragazzi ragazzi è stato strepitoso il salto più alto del mondo adesso mettiamo la super batteria stacchiamo questa mettiamocela super batteria mettiamo il mega pacco batterie perché decisamente pericoloso questo pacco batterie cioè guardate qua il bestia voi lo conoscete già voi conoscete già questa pressione sono 49 volt quasi 50 sì il voltometro non mente ok ragazzi facciamo un altro giro ciao ragazzi continua il bullismo nei confronti di quello che resta del mio monopatto elettrico pazzo ok dopo aver messo delle ruote super grandi fighissime in lega guardate qua come ho bloccato alla fine la ruota con questo morsetto per batteria da auto io ho raccolto un po' di piante quando ho fatto l'esperienza in mezzo il prato se vogliamo chiamarlo così questa è una pecora scappata dal recinto ok adesso voglio provare queste ruotine allora questa manca un cuscinetto questa purtroppo è troppo lunga non c'ho una vite l'unica che posso provare è proprio questo guardate che figa cioè con questa sono sicuro di riuscirmi a fare male che dite no la pecora non verrà maltrattata proviamo ok ragazzi ho montato la ruotina piccola piccola gli altri due le ho scartate quali erano le ruote grandi dell'altro esperimento adesso guiderò per un po' questo monopattino elettrico anzi quello che resta del mio monopattino elettrico con la ruotina da rollerblade mi piace? è abbastanza crunch oh raga farò il salto con il mio monopattino con la mini ruota su questa rampetta non è molto alta ma comunque il monopattino non è dei migliori sta ridotto davvero male è accroccatissimo per dei pezzi però ci voglio provare rimanete con me ok non è andato proprio come immaginavo ok non è andato proprio come immaginavo è andato proprio come immaginavo ok non è andato proprio come immaginavo quando è andato proprio come immaginavo